Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questa nuova puntata di Fecunia. Oggi abbiamo qua un ospite che molti di voi conosceranno. Lui è un influencer e ora soprattutto ha creato un business basato sugli influencer. Nasce come youtuber, signori e signore, Marcello Ascani. Buonasera. Ciao, come va intanto? Tutto bene, tutto bene. Fa un caldo voi, siamo a ottobre e non ce la facciamo. Cioè qui voi non lo sapete ma normalmente dovrebbero esserci 20 gradi. Io ho in mente di mettermi la giacca ma sono 24 quindi... Però gli uffici di Pietro sono nella terra di mezzo quindi ha un clima particolare. Però meglio, adesso dicono che arriveranno le gelate, che Putin ci farà del ma... Meglio così, meglio così. Gretina sarà un po' arrabbiata per questa cosa ma noi partiamo tranquilli. Senti, raccontaci il tuo ultimo progetto Flatmates, che cos'è? Allora, Flatmates è la mia agenzia di influencer marketing. L'ho aperta nel 2021 dopo un anno di ragionamenti in realtà. Questo perché era un progetto che ho da tempo avevo in mente. Io facendo l'influencer mi sono interfacciato per anni con varie agenzie e per anni mi sono detto cavolo sarebbe figo se un'agenzia all'interno avesse dei creator, che conoscessero il linguaggio dei creator, le necessità dei creator e quindi banalmente che non proponessero cose alla cacchio di cane, no? E ne succede molto spesso che arriva un'agenzia, ti propone senza neanche conoscerti, ti propone un brief che non è azzeccato per il tuo canale. Come dire, è sempre l'influencer a dover sottostare alle necessità del brand e mai il contrario. Guarda, ti fermo solo un secondo. Influencer marketing. Chiariamo un attimo per chi non ha a che fare con questo mondo. Cosa vuol dire? Esatto. L'azienda fanno marketing, ok? Quindi spendono in cartellonistica, in radio, in televisione, in Facebook advertising, in influencer e in altri canali per vendere i propri prodotti, banalmente. Diciamo che gli obiettivi che devono raggiungere sono vari. Il primo sono le conversioni, quindi io spendo dei soldi in pubblicità perché voglio che mi ritornino soldi in fatturato, oppure un obiettivo potrebbe essere l'awareness, quindi io voglio che il nome del mio brand giri, i valori del mio brand girino, ma è più il nome dei valori. Un altro obiettivo potrebbe essere appunto il posizionamento, e qua invece è proprio sui valori, quindi io mi posiziono su una certa, diciamo, su certi valori, oppure su una certa linea, diciamo, di consumatori, per cui Gucci è posizionata sul lusso, H&M è posizionata sulle cose economiche, Patagonia è posizionata sul sostenibile, ok, quindi questo è un obiettivo anche che si raggiunge col marketing. Un altro obiettivo del marketing è l'employer branding, cioè io promuovo la mia azienda non solo vendendo i suoi prodotti, ma vendendo l'azienda stessa ai potenziali dipendenti. Questi sono tutti gli obiettivi che puoi raggiungere col marketing. L'influencer marketing è uno di questi tanti canali e consiste nell'attivare gli influencer, che sono, li conosciamo insomma. Io, te, tra l'altro. Esatto, Gesù, tutti quanti, anche lui. Attivare queste persone per promuovere i brand, fine. Ok, la cosa interessante che mi viene in mente è, noi siamo abituati a vedere gli influencer su YouTube, su Instagram, su TikTok, voi siete attivi anche su TikTok? Noi sì, siamo attivi principalmente su TikTok e su YouTube. Ecco, e vediamo tutti gli influencer che più o meno a modo loro raccontano un prodotto, raccontano un servizio. Quindi, se siamo abituati a pensare all'agenzia pubblicitaria, come quella con i creativi, alla Mad Men, che devono capire come promuovere il prodotto, nel caso dell'influencer marketing forse viene meno questa parte creativa. Ma, guarda... E quindi, scusami, ti chiedo, come mai si sceglie un influencer rispetto ad un altro, se, visto che proprio l'influencer si deve occupare di come promuovere il prodotto? E voi che ruolo avete in tutto questo? Allora, noi abbiamo un ruolo, diciamo, di facilitatori. Quindi, siamo un'agenzia di intermediazione. Poi ti racconterò magari meglio il modello di business, ma fondamentalmente noi aiutiamo le aziende a spendere il loro budget dedicato agli influencer, perché magari autonomamente non lo sanno fare, o lo sanno fare ma non hanno le risorse allocate. Tipo noi, il nostro cliente principale è Satispay, per ora. Loro hanno, chiaramente, le competenze per farlo in maniera autonoma, secondo me, ma si appoggiano ancora a noi perché la campagna è veramente molto grande e quindi per forza di cose da soli non ce la farebbero. Poi, secondo me, noi aggiungiamo ancora un po' di know-how a tutti perché siamo proprio con le mani in pasta. È difficile con un brand... Forse è giusto un VPN se la potrebbe fare proprio al 100% da solo, perché loro sono veramente competenti. Quindi noi ci mettiamo molto la strategia e il know-how. e poi anche operativamente le persone allocate a gestire la campagna. Questo è apporto. Con le persone intendi gli influencer o chi ci lavora? No, 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 è project manager, cioè le persone che devono scrivere 100 mail, perché poi con una campagna non è solamente attivare due creator, che dovete attivarne 200, quindi è scrivere un sacco di mail, recuperare tutti quanti gli insight, fare dei report, analizzare quello che è successo, come si può migliorare, eccetera, eccetera. Tra l'altro, in realtà, anche le agenzie pubblicitarie standard quasi sempre fungono da intermediatori. Mad Men, per esempio, nella seconda puntata o nella prima, quando fanno fare il tour alla protagonista dell'agenzia, loro lo dicono proprio noi che facciamo la creatività, siamo solamente una celleggina sulla torta. Il vero business delle agenzie pubblicitarie, anche negli anni 60, era rivendere spazi pubblicitari. Quindi loro guadagnavano un mark-up sulla compra e vendere spazi pubblicitari. Sempre è stato così. E tuttora è più o meno la stessa cosa. La creatività è sempre stata una ciliegina sulla torta del media. Tanto è che adesso si distingue il budget in budget media e budget creatività. Le agenzie lavorano o su una cosa o sull'altra. Il budget media, che poi sarebbe media, il budget media è molto più grande di solito e viene gestito dai centri media, che lo smistano sui vari canali. Gli influencer vengono categorizzati spesso come budget creatività perché fanno un lavoro creativo, ma in realtà è sbagliato. In realtà sono media anche i creator e noi li gestiamo come tali. Quindi è un lavoro di intermediazione. Sì, esatto, esatto. E quindi si basa a percentuale? Come funziona? Arriva l'azienda Pippo Lippo. Tu devi sapere che ogni volta che io faccio l'esempio di un'azienda, questa si chiama Pippo Lippo. Pippo Lippo. Probabilmente esiste. SRL o SPA. Però non l'ho ancora trovato. Magari SPA, non lo so. Arriva Pippo Lippo da voi e vi dice ok, Flatmates, io esageriamo, un milione di euro e voglio investirlo tutto in influencer marketing. Ok. Grosso modo, come voi vi comportate, chiaramente selezionando gli influencer, adesso ci arriviamo, però su quel milione c'è una percentuale che rimane a voi? Yes, in basso al tipo di campagna. Per esempio, proprio adesso, sempre per uno dei nostri clienti principali, dobbiamo gestire un budget bello alto, ma con creator giganteschi che ce lo faranno esaurire in poco tempo. Per cui la verità è che il nostro lavoro per attivare un creator da un milione di follower o un creator da mille follower è molto simile. È quasi lo stesso impegno. Per cui il nostro markup varia in base al tipo di campagna. Se una campagna con microinfluencer avremo un markup tipo del 50%, se è una campagna con celebrity che ci chiedono mezzo milione a campagna, chiaramente facciamo un markup anche del 10, del 5, in base a quello che dice. Sì, sì, la logica è se devo… La media è il 20. Se devo… Ok. Se devo lavorare con tanti dovrò sbattermi di più per raggiungerli di più. La media è il 20 sulla parte dell'intermediazione. Poi in realtà noi spesso agli clienti proponiamo anche di aiutarli sui loro asset, video, foto, cose, per cui facciamo anche un piccolo lavoro di tipo invece creativo, budget, creatività vero e proprio. Per cui per alcuni clienti facciamo video di YouTube, altre cose. E là il markup dipende un po' dal tipo di campagna. Ok, prima hai detto una cosa interessante, citando tra l'altro NordVPN che chiunque segue YouTube ormai conosce, probabilmente anche per il vostro lavoro. E quello che ti chiedo è, loro sono forse un caso anomalo, quindi lasciamolo a parte. Perché io azienda dovrei considerare l'idea di appaltare, di far fare ad un esterno questo lavoro pagando una percentuale, quando invece posso farmelo da me. Per scalare più in fretta, perché è difficilissimo trovare delle persone competenti in quest'ambito, che ti permettano di fare campagne che funzionino. Se tu sai che c'è flatmates, che magari ti fidi di loro, perché lavorano bene, hanno fatto altre campagne, quindi o hai già lavorato con noi, oppure magari hai qualche referenza, tu sai che ci metti un secondo ad attivare noi e ci metti mesi a formare delle risorse. Per cui può essere anche un passaggio. La stessa NordVPN, attendere prima o poi ci mollerà. Lavora con noi da... Abbiamo scoperto che siamo la loro agenzia più grande. Ah, bene. Cioè a livello di... Italia, Europa. Italia, Italia. Prima o poi, secondo me, ci mollerà, perché magari aumenterà il team italiano e riusciranno a gestire tutto da solo. Però, cioè, se hai un'azienda, te ne rendi conto, assumere risorse competenti è difficilissimo. Per cui... Questo discorso si fa con l'influencer marketing, ma lo fai con qualsiasi cosa. Perché posso esternalizzare la grafica e non farla internamente? Alcune volte è anche una scelta... Però vedi, forse sul discorso grafica c'è un po' la percezione che è comunque devo mettermi a fare un lavoro grafico. Non sono capace. Mentre, vabbè, alla fine devo scrivere una mail a un influencer e dire parla dei prodotti della Pippo Lippo. Ti pago. C'è un'uomo abbastanza... Dove è il... C'è un'uomo abbastanza comunque importante da dover colmare. Comunque non è semplicemente contattare l'influencer, è sapere quale contattare e per questo devi per forza essere un grande fan delle piattaforme. Ok? Quindi devi... Skill principale che noi cerchiamo nelle persone che prendiamo è essere un grande fan delle piattaforme. Quindi o TikTok, o Twitch, o YouTube. Instagram non lo facciamo praticamente. Perché è già bello, saturo di agenzie. E quello è già un mega scoglio perché nella maggior parte delle aziende non è che sia un po' boomer. Cioè, appunto, è molto più facile trovare persone che conoscono Instagram. Una persona che la sallunga su YouTube e che passa tutte le sere a guardare YouTube a posti di guardare Netflix è difficile trovarla. Poi deve essere una persona che ne capisce, per esempio, dei dati. Ok? Quindi che sappia metterci un minimo di cervello. Là, il buon senso, non è che devi essere laureato in data science. però di essere capace di analizzare quelli che sono i dati importanti. Ok? Quindi non le solite vanity metrics. C'è da dire che comunque probabilmente rispetto effettivamente a un grafico 3D per cui le skills sono più difficili da colmare sono un po' più facili le skills da colmare in questo. Però è un lavoro a parte. Cioè, o fai quello o fai quello se non fai qualcos'altro. Ok, quindi non è una cosa che io un piccolo imprenditore dico, vabbè, adesso me ne occupo io. Secondo me te ne puoi occupare tu se sei molto di settore per esempio se sei un imprenditore di settore e vuoi... Cosa intendi con di settore? Sono un imprenditore che vendo palette da barbecue. Allora, magari ho la passione del barbecue seguo quei 4-5 influencer in Italia che fanno barbecue lo faccio personalmente perché ho tutto quello che mi serve per attivarli. Ok? E tante collaborazioni con i creatori sono nate così. Piccoli imprenditori o aziende che per caso all'interno avevano un marketing manager con la passione di YouTube per un certo settore e hanno attivato proprio due o tre persone spot. Le campagne migliori che ho fatto io sono state quando mi hanno contattato magari aziende che mi adoravano. Quando devi scalare la cosa non funziona più. Cioè un conto è quello che devi attivare... Infatti noi ai clienti diciamo spesso sotto un certo budget non vi conviene lavorare con noi. Vi conviene farvelo da solo. Perché perché tanto come dire appunto inviare due mail non ci vuole niente e informarvi su quattro creator che volete arrivare non ci vuole niente. È un po' più difficile se volete rendere la cosa sistematizzata e scalabile. Quindi se voi ogni anno o ogni sei mesi avete un budget bello grosso da investire. Infatti i nostri clienti sono tutti medio-grandi. Quasi mai lavoriamo con... Cosa intendi con medio-grandi? Provo a dare una dimensione. Dei 100.000 euro di campagna in su. Ok. Cioè 100.000 euro da spendere in creator in su. Quanti siete al momento? Siamo sei operativi più me operativo l'altro socio quindi otto considerando anche i soci e poi altri i soci di gammi che non sono operativi. Quindi se dovessimo incontrarci tutti in una stanza saremo una quindicina se considera anche i fornitori esterni che lavorano con noi ogni tanto. Ok. E in grosso modo quali sono i ruoli adesso senza elencarli uno a uno però chi c'è? Chi è coinvolto in tutto questo processo? Allora parto da Michele è responsabile quindi il mio socio Michele è responsabile di tutta la parte amministrativa ok e strategica business plan eccetera eccetera io sono responsabile di tutta la parte operativa quindi proprio responsabile del successo delle campagne e poi abbiamo persone assegnate su ogni progetto quindi ogni persona ha assegnato due o tre progetti e per il progetto gestisce o la parte di creator o la parte di cliente per cui su un progetto sono staffate due persone se è medio o piccolo una che parla con il cliente e quindi capisce le sue necessità invia i report lo fa stare tranquillo se lo coccola si assicura che tutto vale per il meglio e sempre sulla stessa campagna abbiamo un'altra persona che invece è sui creator quindi invia le mail ai creator si assicura che invece i creator sia tutto a posto che chiede rompe le palle ai creator inviami il video in approvazione ti prego fallo in tempo questa cosa non va bene ti spiego perché non va bene in modo che succede sempre ogni volta che c'è un piccolo disguido perché magari l'azienda ha capito male una cosa o il creator ha capito male una cosa noi mediamo cerchiamo di risolvere il problema il prima possibile infatti secondo me un punto interessante è il fatto che nei lavori di intermediazione a parte quando ci sono dei costi standard c'è una specie di micro conflitto di interesse che ogni volta va gestito come si fa a capire di chi prenderle parte cioè come come l'affrontate questo noi abbiamo un doppio conflitto di interesse da un lato vogliamo che la campagna performe al meglio in assoluto quindi vorremmo pagare i creator il meno possibile chiaro e dall'altro vorremmo che i creator lavorino solo con noi non con altre agenzie non con altri brand quindi vorremmo pagarli il più possibile altrimenti facciamo due campagne e poi smettiamo di lavorare ok e quindi siamo costretti a essere giusti fondamentalmente cioè siamo costretti a pensare ok qual è la cosa più come dire nel mercato quindi che soddisfi o uno o l'altro e raramente ci siamo trovati a doverci sbilanciare diciamo che se un cliente ha molta fretta i creator hanno molto più polso per cui tendiamo a pagare di più creator ok al contrario quando i creator sono molto poco professionali dobbiamo fare proprio da babysitter salire molto dietro tendiamo a favorire un pochino più il cliente perché cerchiamo di pararci il culo nel caso le cose vadano male certo a proposito di rapporti tu nel corso della tua carriera si può dire su youtube hai collezionato tutta una serie di contatti se non fosse stato per questi contatti che hai conosciuto nel tempo tramite video collaborazioni pensi ce l'avresti fatto lo stesso a partire allora diciamo che youtube ti apre tante porte ed è proprio il bello di youtube che ti fa avere tantissimi contatti per flatmates stranamente l'unico contatto fondamentale è stato la conoscenza dei gammi perché l'abbiamo a parte da 50-50 per cui io sono al 50% proprietario di flatmates l'altro 50% appartiene a gammi industries gammi scusa cos'è? gammi industries è un'agenzia di Brescia che si occupa di tutt'altro per esempio di branding ha fatto il branding dell'università cattolica quindi loro sono in 50 sono molto più molto diversi loro ci hanno messo come dire l'amministrazione per esempio di gammi ok la parte commerciale inizialmente è stata anche di gammi in realtà quindi senza gammi non ce l'avrei mai fatta senza il resto dei miei contatti saremmo andati un po' più lenti avremmo avuto un po' di clienti in meno perché poi tanti nuovi clienti sono venuti anche da me però saremmo partiti comunque ecco perché non sono partito da solo cioè se fossi partito da solo magari flatmates sarebbe ancora in piedi però sarebbe un disastro ho tanti errori mi risparmia del fatto di avere dei soci più sgamati di me quello è interessante loro più o meno che età hanno? allora Michele ha dieci anni più di me esattamente dieci anni più di me e poi ci sono Ale, Joe e Fabri che hanno altri hanno quindici anni più di me in media quindi si hanno una quarantina d'anni e sei un po' visto come quello piccolino sì Michele era quello piccolino che dinamiche ci sono esatto Michele era quello piccolino era un po' il ragazzo d'oro adesso io sono il ragazzo d'oro del ragazzo d'oro quindi esatto però sono molto simpatici poi sì hanno quarant'anni ma sono costretti per forza di cose a stare sul pezzo sulle varie piattaforme tecnologie quindi sono tranquilli con loro e a proposito di partiti arriviamo all'arrivati primo anno 2021 di attività intanto è un anno pieno? no noi siamo partiti a marzo poi tu calcola che marzo, aprile, maggio non c'è stato nessun progetto attivo da maggio in poi sono partiti i primi progetti i primi progetti chiusi li abbiamo avuti a fine anno quindi in realtà secondo me sei mesi di attività pura quindi diciamo un semestre ok quindi il primo semestre di attività abbiamo chiuso con 918 mila euro di fatturato sopra le nostre aspettative ma semplicemente perché i clienti che sono arrivati per primi già conoscendo sia me che in Gammy ci hanno subito da parecchia fiducia e invece tutta la parte di gavetta iniziale ce la siamo un po' risparmiata ok e quindi siamo partiti in quarta un utile abbastanza basso penso un EBITDA del 5% ok su queste cose Michele è più ferrato quest'anno l'obiettivo era più di alzare i margini l'EBITDA efficientando un po' tutto quindi aumentando i progetti mantenendo lo staff uguale quest'anno dovremmo stare al 10% reale cioè adesso siamo al 10% si spese di fine anno faremo una festa un po' di cose scenderà un po' l'EBITDA ah va bene bella festona perché sarà una bella festona sei invitato tra l'altro ah bene ok sì no feste bonus anticipi di spese che tutto ciò abbiamo preso l'ufficio quello sarà compriremo tutta una serie di mobili che costano un metro di 500 euro per evitare che vado in ammortamento giustamente regolette del stato italiano esatto e quindi nulla dovremmo chiudere l'anno noi di firmato abbiamo più di 2 milioni e mezzo ma di fatturato penso chiuderemo con 2 milioni perché tutta una serie di clienti hanno posticipato rallentato i progetti a causa della crisi per esempio abbiamo un cliente di un fornitore di energia era in quarta stava per spendere un sacco di soldi quei soldi sono firmati sono fatti dovremmo spenderli però stiamo posticipando il prossimo anno per evitare perché non avrebbe senso spenderli adesso no c'è un clima di incertezza in quel settore mica da ridere e anche gli altri clienti abbiamo visto comunque un grande rallentamento cioè mentre prima facciamo tutto magari banalmente sono leggermente più lenti nel rispondere più lenti nel dargli ok sulle campagne per cui tante cose stanno slittando dal prossimo anno per cui dovremmo chiudere con due milioni che non è male complimenti è il doppio esatto non è male se conti è quasi quadruplo se lo annualizzi se lo annualizzi è quasi quadruplo però in realtà no no vabbè però contando i sei mesi sì sì chiaro pensavo una cosa prima quando stavo preparando questa chiaccherata stavo pensando al percorso che hai fatto tu tu prima eri avevi a che fare con agenzie di influencer marketing magari anche più di una e a un certo punto tu eri in un certo senso il fornitore di queste agenzie sì e a un certo punto hai detto sai cosa non faccio più il fornitore divento effettivamente anch'io un'agenzia di influencer marketing questa cosa ha un nome tra l'altro si chiama forward integration non so come si possa dire in italiano sì sì è acquisizione della filiera ok non sapevo avesse questa traduzione benissimo purtroppo leggere tutte queste fonti in inglese è un disastro comunque il passaggio è interessante lo spiego per chi non conosce questa dinamica e lo faccio con un esempio semplicissimo tu magari sei un produttore di motori per hai contatti con varie case automobilistiche non so la ford e a un certo punto a furia di produrre motori per la casa dici sai che io comunque ho visto come lavorano dai motori passo a produrre tutto il resto che è un passaggio molto interessante la mia domanda però è non temi che quelli che adesso sono i tuoi fornitori quindi altri influencer possano a loro volta farlo stesso e diventare così vostri competitor ma allora diciamo che io ho aperto flatmates non con proprio quell'obiettivo di diventare ricco o fare un'azienda gigante l'ho aperto perché come creator era una mossa intelligente mi aiutava innanzitutto a scavalcare l'agenzia con cui lavoravo e ad essere io stesso la mia stessa agenzia mi aiutava ad avere una struttura imprenditoriale come dire che comunque sosteneva sia nel mio canale in un certo senso cioè io la mia operatività del canale comunque tante cose riesco a delegarle a flatmates non vi faccio montare i miei video ma le mie stesse campagne sono gestire da flatmates banalmente quindi questo mi è utile mi è utile a livello di contatti mi è utile da raccontare sul mio canale youtube è sinergico in tanti modi noi come dire lavoriamo anche con creator che si sono si stanno diciamo strutturando ed è meglio in realtà lavorare con loro cioè io quasi spero che i creator si strutturino e anche loro aprono la loro piccola agenzia perché lavorerebbe meglio con noi non a parte che non consiglio al creator di iniziare a lavorare fuori come dire è un business completamente diverso per cui in realtà quando un creator si struttura lo fa sempre sul proprio business interno ok per cui la vedo dura cioè tu adesso apri l'agenzia e inizi a gestire le campagne per altri creator è più facile che semplicemente crei una piccola struttura in grado di gestire molto bene il tuo inbound magari rivenderlo ma questo sarebbe solo sinergico con noi lo dico perché noi già lo facciamo diciamo fra qualche mese lancieremo il nostro roster quindi i nostri creator interni che non saranno in esclusiva non saremo management tipo le classiche agenzie di management però semplicemente avremo una serie di creator con cui abbiamo degli accordi più stretti ok con cui che per esempio ci autorizzeranno a venderli senza il loro consenso nel senso quindi potremmo non ogni volta inviare 18 mail avanti e indietro per la contrattazione ma contrattare nel loro posto tutta una serie di cose che facendo i rapporti noi questo lo stavamo facendo proprio integrando in flatmates una piccola agenzia nata da alcuni creator ok sì che non so se lo posso già dire quindi per ora farò finta di niente facciamo di noi esatto e quindi noi partiremo in quarta tra l'altro con dei creator fortissimi in italia proprio perché facciamo questa integrazione qua per cui attendere cioè io il sogno di flatmates per me era fare l'agenzia degli influencer non fare l'agenzia mia per cui non ci sono riuscito perché creator non lo vogliono fare e gli piace fare creator e spesso non sono in grado di professionalizzarsi nel caso diventassero in grado di farlo per me è ancora meglio per me il settore diventa ancora più figo ok a me economicamente cambia molto poco specialmente adesso dove la maggior parte dei miei soldi comunque provengono dalla mia attività da youtuber ok sì il grosso del guadagno per ora per me è stato di posizionamento di connessioni di sinergie eccetera eccetera ottimo piccola precisazione comunque tutto il business di cui ho parlato io di flatmates è solo una metà cioè a livello di fatturato è la parte principale però in realtà noi appunto a tendere gestiremo anche la parte di management che sarà un altro piccolo ramo di business e la parte di creazione di contenuti per i clienti il canale tuo piccolissimo compagno investiamo l'abbiamo fatto noi per banca profilo per esempio è una piccola cosa in realtà investiamo l'uscito sempre ma non abbiamo anche altre cose con altri clienti tipo Pasquavino da poco ci ha chiesto di gestire il loro account di tiktok che di noi ci ha chiesto Pasquavino vuol dire vino Pasquavino è un produttore di vini abbastanza importante è un cliente di Gammy per cui Gammy faceva altri progetti Facebook Advertising queste cose qua e ci ha chiesto perché non ci ha aprito il tiktok parlando come dei tiktoker cioè noi vogliamo che non vogliamo fare i boomer che mettono l'advertising su tiktok sì sì purtroppo ho ben presente vogliamo proprio fare il tiktoker che parla di vino poi comunque ci sono dei compromessi per cui non sarà proprio un tiktoker che parla di vino però sarà una cosa più figa noi questo è tutto un altro ramo di business che a me piace un sacco perché nella mia testa tutte le agenzie tutte le aziende diventeranno dei piccoli progetti editoriali che comunque ne avranno bisogno per cui se li compreranno li faranno in casa e noi le temo a farli però a livello di fatturato secondo me è un 20% del totale però mi piace buono la parola influencer sì spesso discussa ormai secondo me un po' meno un po' più sdoganata io però spesso mi sono interrogato su questa parola e spesso mi sono anche interrogato sulle differenze con un'altra parola che è quella di testimonial possiamo dire secondo te dimmi cosa ne pensi di questa frase che l'influencer è il testimonial moderno allora diciamo una grossa differenza è che il testimonial produce contenuti sul canale del cliente ok quindi Gerry Scotti se non sbaglio era testimonial del riso Scotti sì ok può essere era sulle confezioni del riso forse non lo so o comunque la nuotatrice era sui cartelloni dell'acqua San Benedetto può essere quelli sono testimonial perché sono sui canali del cliente io sono stato testimonial di alcuni brand quando sono finito sul loro advertising luis sarò testimonial di dodo ok quello è testimonial l'influencer produce contenuti generalmente sui propri canali quella è la decisione che io faccio in realtà poi sono tutte nomenclature abbastanza inutili perché poi noi li chiamiamo come li chiamiamo poi le cose sono quelle e l'influencer tende a produrre contenuti sui propri canali poi io utilizzo anche un altro termine che è creator per tutti quegli influencer dove è molto forte l'aspetto di creatività ok per cui tanti tiktoker streamer e youtuber fanno un gran lavoro di produzione di contenuti per cui io a loro mi riferisco spesso come creator e noi ci concentriamo molto su quell'aspetto là ok no sono d'accordo sul discorso in quale canale vengono diffusi i contenuti io personalmente ho sempre pensato anche a un'altra differenza che nel però sono curioso di sapere cosa ne pensi che nel caso del testimonial si dà priorità assoluta alla visibilità più è noto il testimonial meglio è senza particolari attenzioni alla persona nel caso dell'influencer invece c'è una sorta di principio di fiducia autorevolezza che secondo me nel caso del testimonial non è così importante ti faccio l'esempio più citato Ronaldo che fa la pubblicità dello shampoo Ronaldo non ha nessuna particolare cioè non si è mai espresso sul discorso capigliature però è un volto noto io vedo la pubblicità di Ronaldo passare la pubblicità con Ronaldo passare e mi ricorderò di quello shampoo quando sono al supermercato è vero generalmente quello che ho capito io è che quando si sceglie un testimonial lo si fa spesso cercando di raggiungere l'obiettivo posizionamento per cui ci si chiede a quali valori è associata questa persona anche col testimonial secondo te? soprattutto col testimonial mentre quando fai l'influencer potrebbe essere sicuramente i valori ma appunto il know-how la community e tutto il resto aumentano i valori perché tu raggiungi raggiungi anche tanti altri obiettivi mentre quando fai cartellonistica col testimonial non fai conversioni generalmente perché io a volte vedo proprio dei testimonial che non c'entrano nulla con il brand di riferimento ma è proprio questo il punto e a volte quasi lo noti per quello lo noti apposta è proprio quello il punto però cioè se io sono un'azienda che ne so molto vecchia voglio associarmi invece a dettagli i miei propri giovani per non testimonial giovane o comunque che rappresenta quei valori ma non c'entra niente con me o sono un'azienda che inquina tantissimo voglio fare un po' di greenwashing mi voglio associare valori della sostenibilità e tiro in mezzo qualche testimonial forte sui valori della sostenibilità ok se voglio essere cattivo quindi ronaldo probabilmente secondo me ronaldo non c'entra un cacchio perché è il numero uno quindi un po' l'effetto ferragni lo voglio perché lo voglio però magari qualcun altro sembra che non c'entri niente e magari in realtà rappresenta dei valori su cui il brand vuole iniziare ad avvicinarsi ok voi lavorate tanto con influencer e vedete che ogni influencer si comporta in un modo diverso ci sono delle cose che secondo te un influencer non dovrebbe mai fare quando si tratta di promuovere un prodotto un servizio eh sì sono errori che io avrò fatto tante volte diciamo che come dici tu come hai detto prima cioè il creator funziona perché ha una community che si fida di lui l'influencer marketing funziona perché riesce a scavalcare quella che in gergo si chiama la banner blindness cioè quando tu ti rendi conto che stai venendo una pubblicità la ignori completamente il creator riesce a farti andare giù una pubblicità senza che tu ci rimani male fondamentalmente le pubblicità meglio fatte sono infatti quando il creator è genuino quindi più sei genuino più i valori del brand sono in linea con i tuoi più la campagna è sensata sui tuoi canali più va giù al tuo pubblico quindi più funziona quello che non devi fare è l'opposto alcune volte io l'ho fatto cioè il pubblico sa che io ho certi valori sono un buon esempio per i vostri figli non bevo bevo poco però non mi ubriaco non mi drogo non sono ovviamente ci sono tutte queste cose comunque ve lo dico le sta dicendo solo adesso voi non sapete prima mi sono drogato le feste esatto prima siamo fatti due piste ci sono alcuni brand con cui io non posso collaborare chiaramente perché andrei subito istantaneamente contro i miei i miei valori contro quello che il pubblico sa di me a proposito a proposito è venuto fuori una mezza cosa ultimamente sui tuoi canali Dubai vuoi spiegarci cosa è successo ma in realtà fortunatamente non è stato così grave come temevo sarebbe successo è successo che io sono stato nel 2018 a Dubai per la prima volta con l'ente del turismo e Dubai mi piacque tantissimo sono tornato da solo per i cavoli miei nel 2021 lo scorso anno dicembre e ho fatto dei video invece in maniera completamente autonoma con l'obiettivo di scoprire la vera Dubai quindi ho parlato con degli imprenditori e ho fatto anche un video specifico sulla Dubai povera in primis perché ero curioso di sapere come fosse la Dubai povera in tutte le città esisterà una parte povera una parte malavitosa in tutte le società esiste una categoria di sfruttati purtroppo io sono andato a Dubai a scoprire quella parte là incuriosito dai video per esempio di Nova Alexio o dai video che ho visto online che ne parlavano senza esserci mai stati ok e tante volte succede che un canale parla di una realtà già politica senza esserci mai stato e in realtà non è così in alcune nazioni effettivamente non è così e a Dubai effettivamente come dire le zone povere esistono le ho visitate ho visto i campi di lavoro come dire come vedo nel video sono abbastanza bruttini come dire stono rispetto al resto della città purtroppo non sono riuscito anche perché con la fotocamera con un turista non sono riuscito a farmi raccontare poi cose interessanti dai lavoratori solamente il tassista era molto aperto e quindi mi raccontano la sua vita però non è che mi raccontano la vita di una persona sfruttata mi raccontano una vita di una persona povera ok anche le persone hanno recepito da quel video Dubai fa schifo e io come mai secondo te innanzitutto perché un video raramente viene visto per la sua interezza raramente viene visto con attenzione giustamente la gente vede YouTube anche in tanti contesti per cui uno come dire percepisce quello che vuole per cui passa il messaggio più semplice in assoluto il messaggio più semplice in assoluto di quel video è ok Marcello sta rivelando che Dubai fa schifo tant'è che proprio l'altro giorno vedevo uno short su YouTube di un tipo che dice Dubai è invivibile e nel suo video prendeva spazzione anche nel mio video mostrandoli in realtà Dubai è stravibile è fichissimo è super vivibile è bellissimo se non sei povero chiaramente questo forse potrebbe valere per qualsiasi paese e questo vale per qualsiasi paese però il discorso è è qua è chiaro che c'è un disellineamento ok da questo video e magari anche dai video di Novolex eccetera eccetera emerge che Dubai faccia schifo a prescindere quando in realtà Dubai è strafica da certi punti di vista e non da altri c'è solo un vero problema che i valori di quella nazione non sono allineati con i nostri ok come quando sono stato in Cina i valori non sono per cui i diritti dei lavoratori a Dubai sono completamente diversi chiamiamoli diversi diversi dai diritti dei lavoratori in Europa ok non esistono praticamente per cui la gente mi ha detto cacchio adesso stai tornando a Dubai con l'ente del turismo quindi il dibattito è stato questo sono tornato con l'ente del turismo per chiarire per esplicitare la cosa cosa vuol dire che vai a Dubai con l'ente del turismo è successo questo io volevo tornare a Dubai per i cavoli miei avevo degli appuntamenti volevo andare assolutamente pagando con i miei soldi l'ente del turismo mi ha proposto di andare gratuitamente e pagandomi anche una fee per i contenuti una fee molto più bassa rispetto a quello che chiederei a qualsiasi altro brand per fare una vera collaborazione ok però il fatto che mi rimborsassero per me era abbastanza per accettare perché avevo già intenzione di andare quindi sono ritrovato a dover decidere ok vado pagando io vado accettando la collaborazione per cui non mi chiedono neanche di fare particolari contenuti se non mostrare il fatto che sono là a Dubai ok per cui io ho accettato la collaborazione e sono andato a fare quello che devo fare chiaramente ma ovviamente giustamente la gente è rimasta perplessa ha detto ma come prendi soldi dalle stesse persone che a me sembra che tu abbia criticato nello scorso video e chiaramente la risposta è sì perché io cerco di rimanere coerente con i miei contenuti ma devo comunque raggiungere dei compromessi e io l'ente del turismo ho detto ragazzi cosa numero uno dovete guardare il mio video che ho fatto passato ok sulla zona povera perché se non lo guardate se non l'avete visto è un problema poi rischiamo che ci siano in commenta guardate e sappiate che io rimarrò sincero anche con i miei prossimi video ok per cui se l'obiettivo dei miei video è mostrare Dubai come città di smart working era l'obiettivo della campagna sappiate che io mostrerò la dei positivi la dei negativi sullo smart working a Dubai e loro giustamente mi hanno risposto se vai tranquillo perché lo smart working a Dubai chiaramente non ha molti contro per cui io l'ho fatto e farò anche uscire un video non so quando pubblicherai questo podcast non lo so neanche io potrebbe essere già uscito il video farò uscire un video dove mostrerò le mie due settimane a Dubai questa campagna tra l'altro poi dopo di me la faranno anche altri creator perché siamo quattro coppie di creator se non sbaglio e quindi io ho accettato perché essere andato comunque a mostrare più o meno le stesse cose cambia solamente il fatto che si vedrà la scritta in partnership con l'antilletturismo di Dubai chiaramente cioè chiaramente vado incontro a critiche e io ne sono sicuro e sono anche critiche sensate perché uno può non essere d'accordo sul promuovere un posto rispetto ad un altro perché non rispetta i tuoi valori è chiaro che se io voglio essere corrente fino alla fine ti dico cavolo però allora io così non potrei sponsorizzare quasi niente perché nulla è al 100% come dire etico che rispetta i nostri valori banalmente sono stato negli Stati Uniti svariate volte ho lavorato con l'ente del turismo di Philadelphia di Los Angeles di New York e gli Stati Uniti in sé per sé hanno fatto e fanno delle porcate che io non accetto minimamente possiamo citarne infinite guerre che non hanno senso di esistere andare a esportare la democrazia in posti dove non andrebbe esportata sono stato in Cina non collaborando con l'antilletturismo cinese effettivamente ma non per questo sono d'accordo con la censura con l'invasione di Hong Kong con il non riconoscimento di Taiwan purtroppo se devo mostrare il mondo devo andare incontro ai compromessi e quindi ho detto mostro comunque Dubai mostro i propri contro e poi ognuno fa le proprie Dubai in sé per sé è più criticata anche perché è più conosciuta cioè è più facile criticare Dubai perché ormai ne parlano tantissimo e perché molte persone provengono da un passato di influencer che flexano tanto fuffa guru che flexano tanto gente che promuove Dubai come la cosa più figa del mondo e comunque un certo odio verso i ricchi che flexano che io posso anche condividere per cui c'è anche un certo odio verso Dubai perché sarà protagonista anche di tante tante di queste cose Dubai dall'altra parte quindi hai parlato spesso sul tuo canale del diciamo metodo fuffa del dei tutti i vari guru e quindi lasciando adesso un attimo perdere fortunatamente Dubai come mai ti sei sentito di fare tutta questa serie di video più di uno nei fatti dove vai in qualche modo a smascherare un comportamento che non sappiamo tutti è pura charlataneria ho fatto un video in particolare contro i fuffa guru perché erano era tanto tempo che il mio pubblico casualmente si intersecava con quello dei fuffa guru perché io sono stato uno dei primi a iniziare a parlare di finanza personale ma anche proprio alla larga di intraprendenza perché ero uno dei primi anche che io in primis mi stavo interessando come ragazzo a quegli argomenti e quando ti interessi per la prima volta a questi argomenti è facile imbattersi proprio in dei fuffa guru e quindi a un certo punto vedevo due cose innanzitutto che il mio pubblico appunto intersecandoci col pubblico dei fuffa guru alcune volte andavo incontro a certe cose per cui mi arrivavano proposte di di pro e-commerce ho studiato da tizio su di rodacaio e poi mi arrivavano anche critiche del tipo ma non sarai anche tu un fuffa guru perché parli di finanza personale o non sarai un fuffa guru anche tu perché vendi un corsino su come crescere su youtube allora ho detto ok mi servirebbe un video che spieghi la differenza e aiuti il pubblico a come dire a essere più consapevole l'obiettivo del mio video non era quello di smascherare qualcuno anzi no questo era abbastanza chiaro l'obiettivo del mio video era dare degli strumenti al pubblico per farsi un'idea su quando aveva senso spendere dei soldi o meno ok anche perché se vuoi comprare un corso da mille euro su una roba che magari non ti serve per me puoi farlo però in tanti mi scrivono che sono un pochino disperace in tante persone mi scrivono mi sono rotto le palle del mio lavoro non so cosa fare vorrei buttarmi in questo mondo frase classica e questo mondo non si sa mondo che ti può portare a guadagni di solito a questo mondo non si sa mai che è un misto è un'idea un insieme di cose che non si capisce che anche io faccio delle domande di approfondimento e non mi sanno mai rispondere e quelle sono quelle persone facili da intrappolare ok è facile a cui è facile vendere promesse vendere il sogno anche se sono persone intelligenti e a quelle persone a me voglio dargli degli strumenti per sapersi difendere anzi penso che in futuro farò un video aggiornamento perché ormai saranno sono passati due anni da quel video in là e nulla vorrei spiegare delle cose in più io devo dirtelo l'avevo molto apprezzato quel video forse te lo commentai anche all'epoca perché va contro in un certo senso a una metodologia che purtroppo su internet è molto diffusa ossia cerchio bottismo contro il tizio che magari se lo meriterebbe anche perché è un guru però non è utile nel senso se io domani e ci ho pensato più volte di farlo mi accanisco contro tizio che è palesemente un truffatore palesemente un ciarlatano l'ho voluto tante volte farlo è un video che parla a chi già quella cosa la sa esatto mentre il tuo video funzionava secondo me perché come hai detto giustamente dava degli strumenti quindi era generico si poteva dava una una mini guida che si può applicare ad altri mentre vedo tanto purtroppo quell'atteggiamento di adesso faccio ci sono tanti canali americani che lo fanno purtroppo un comportamento che abbiamo importato anche da loro secondo me non è utile non parla sì esatto non parla al pubblico giusto è quasi un io e te sappiamo che tizio è un ciarlatano e ridiamo di lui sì poi un altro problema che invece ho capito più ultimamente è che di ciarlatani proprio al 100% puri ce ne sono molto pochi cioè persone su cui ti puoi scagliare senza diciamo farti la minima remona ce ne sono ma sono molto poche ci sono tutta un'altra serie di personaggi che sono borderline che magari alcune cose le fanno e sono oneste e del pubblico ne tra il beneficio e poi però c'è tutta un'altra fetta di pubblico che rimane fregato ma magari è quasi più responsabilità del pubblico che responsabilità del venditore in sé per sé tante cose che sono legali forse immorali ma non rendono una persona un truffatore al massimo una persona appunto un ciarlatano però che ha tutte le carte in regola cioè vanna marchi era proprio una truffatrice certo perché ti vendeva i numeri dell'otto ok come vanna marchi in italia adesso ce ne sono ma sono molto pochi altri vendono robe lecite ma magari di curita scadente magari un prezzo troppo alto magari con una vendita molto aggressiva magari vendendoti un sogno ma è comunque roba lecita ok per cui quando ti scagli contro qualcuno è molto difficile come dire devi fare veramente tanti compiti per casa e uno non ha il tempo di fare tutti quei compiti per casa esatto diciamo che c'è anche un po' il discorso qui è molto difficile determinare quanto una cosa sia legale o meno però della pubblicità ingannevole e ricollegandomi tra l'altro al discorso degli influencer io una cosa che veramente non riesco a tollerare è quando colleghi perché alla fine sono colleghi non dichiarano una pubblicità ah sì io sono fesso e non riesco a capirlo no purtroppo è veramente una cosa brutta perché magari sono persone con buonissime intenzioni però alla fine poi trovi magari in piccolo da qualche parte in collaborazione con io per esempio è una cosa che con i brand con cui lavoro dico sempre guarda questa cosa però io devo esplicitamente dire ormai anche i brand vogliono quello sì esatto molte volte anche loro però vedi anche lì lo definisci borderline cioè io lo trovo proprio praticamente illegale beh diciamo che dovrebbe essere lo yap come che si chiama dice che deve essere comprensibile per l'utente fondamentalmente quindi se è scritto e tu riesci a leggere non c'è nessun problema poi c'è che comunque non lo riuscirebbe a capire perché magari proprio non ha non è alfabetizzato certo però andando un po' più sul personale sì intanto domanda a proposito di guru tu personalmente hai mai comprato prodotti servizi di guru io a 18 anni ho comprato un corso per rimorchiare ok però questo fa 37 dollari va beh se devo fare quindi per onesto e in realtà ti dirò non erano dei guru erano i simple pickups era un canale youtube che adesso non esiste più loro sono sempre stati un po' borderline cioè solo adesso ci sono splittati adesso non fanno più niente sono sempre stati un po' forse sono un po' guru però il corso in sé per sé era onesto era tipo un corso sulla self confidence una roba una roba che valeva 37 dollari sinceramente e che comunque mi ha aiutato quindi non me ne pento e poi no non ho mai comprato nulla di molto costoso cioè non me ne sono mai sentita di spendere mille euro per scoprire come era il corso di qualcuno ok ho avuto amici che hanno comprato e mi hanno fatto vedere quindi so e niente nulla di che nulla di che esatto ok perché secondo me quello che a volte capita è che non manca un po' l'autostima in certi casi per quello video come il tuo secondo me funzionavano perché sono quasi rassicuranti c'è un certo tipo di persona secondo me ha bisogno di una mano a scovare certi personaggi soprattutto perché ormai e andando sul discorso economico c'è molto questa filosofia del il mio lavoro mi fa schifo voglio fare altro come dice tu genericamente altro il sogno sì esatto e e a questo proposito mi voglio ricollegare a università è un tema anche in questo caso di cui hai parlato spesso sì tra l'altro a proposito di collaborazioni fatte male una cosa che non bisogna fare è avere conflitti di interessi in un video con il proprio perché io ho fatto un video sull'università in collaborazione con un corso online ok e il video è onesto non è di parte ma è di parte perché c'è lo sponsor cioè tu lo percepisci come di parte quindi non avrei mai dovuto farlo sponsorizzato a quel video piccola nota grande errore del mio 2021 tu non hai fatto l'università no hai però spesso appunto parlato di università a un ragazzo che oggi ti viene a dire guarda io voglio guadagnare però con l'università ho sentito che ma no ma poi alla fine finisce a fare il dipendente queste cose qua cosa diresti a una persona che ha questa mentalità io a tutti dico che se non hai niente di meglio da fare devi farlo in università cioè a meno che tu già non hai un lavoro o un percorso segnato per cui magari adesso non ti dà dei guadagni ma hai ben chiaro quello che stai facendo è chiaro che devi continuare i tuoi studi idealmente continui a farlo in qualcosa che ti piace e un'altra cosa che dico è non puoi neanche affidarti al 100% dei tuoi studi quindi sarebbe il caso sempre di investire un po' delle proprie energie su qualcosa di diverso e provare a mettere le mani in pasta in qualche progetto reale anche piccolino quando andavo a scuola il mio amico Andrea che adesso fa lo scultore già faceva delle sculture già provava a venderle prima di finire la scuola tanti universitari che adesso magari hanno pagine instagram no queste qua di divulgazione hanno iniziato l'università hanno iniziato come progetto scolastico e poi l'hanno trasformati in un lavoro vero se invece fai solo l'università secondo me sei un po' limitato o se ti aspetti che l'università ti basti per essere soddisfatto nella vita nel lavoro secondo me sei un illuso però è chiaro che è un'alternativa ottima valida da secondo me da fare io non l'ho fatta ma perché io avevo già un'alternativa migliore io già stavo lavorando ok e sì c'è molto secondo me anche un po' la cultura in Italia del posto fisso so che suona banale dirlo però lo vedo tanto anche con chi mi scrive guarda che io voglio andare a lavorare in banca ma secondo te mi basta questo corso mi mandano il corso a caso su Udemy guarda no devi farti tre più due più master e poi forse vediamo è tostissimo no c'è anche sono d'accordo con te sul fatto che dell'alternativa migliore mi viene anche da dire che per esperienza personale per non fare l'università devi essere un certo tipo di persona che non ha dubbi se lasciarlo o meno il mini dubbio lo possono avere tutti però se il tuo primo pensiero è quello economico fare tutti questi discorsi sull'università non ha molto senso se non hai le idee chiare come ho detto prima è chiaro che devi fare l'università se la lascia è perché hai le idee chiare no ma non la metto tanto sul discorso idee chiare la metto sul magari oggi non ho le idee chiare ma so come chiarirmele ok mentre molte personalità danno il meglio quando affiancate danno il meglio quando seguite io non sono tra questi io faccio molta fatica ad avere delle indicazioni do il meglio quando mi do delle indicazioni questa è una cosa che ho notato quindi tante persone non riescono a gestirsi però pretendono di lasciare l'università di diventare liberi professionisti domani e si dimenticano che quella attitudine fondante poi li accompagnerà per il resto della vita sul tuo canale hai fatto tanti video di risparmio uno dei format che preferisco e penso anche tanti altri è quello cosa mangio con un euro e secondo me sono tutti i format che nascondono un po' una tua vena frugale di chi risparmia oggi dopo tutta la carriera su youtube dopo il fatto che sei diventato un imprenditore è rimasta questa cosa o spendi diversamente io spendo un sacco di soldi adesso rispetto a prima e in generale rispetto alla media delle persone ma perché cerco di massimizzare adesso il tempo per fare tutto quello che devo fare necessariamente cioè per venire da te oggi ho preso il taxi non c'era una follia ho speso 40 volte di più quello che avrei speso con i mezzi però era l'unico modo per arrivare in tempo e tornare in tempo a casa certo è della stessa scelta che faccio ogni tanto per esempio per fare un viaggio ogni tanto prendo il taxi per andare in aeroporto che anche là spendo 100 euro quando potrei spenderne 13 di treno e passare un'ora in più sui mezzi lo faccio perché ogni tanto quell'ora per me è fondamentale cosa intendi con fondamentale? c'è una call che devo fare e la devo fare per forza banalmente c'è un'ora di montaggio in più di un video che devo vedere ok se vuoi che esca in tempo un'ora del mio tempo adesso la valuto di più rispetto a quanto la valutavo all'inizio per cui quando ho iniziato io sono sempre stato strafrugale e stato risparmiatore e lo sono ancora come mentalità però mi faccio i miei calcoli su quelle poche volte in cui vale la pena risparmiare tempo o stare un po' più comodi però comunque spendo spese personali non spendo assolutamente niente cioè non mi compro la macchina se la dovresti comprare la comprerai usata però in che senso le spese personali alla fine se risparmi un'ora del tuo tempo personale è comunque una spesa personale sì tempo di lavoro c'è comunque c'è un viaggio di lavoro una roba legata al mio lavoro chiaro che il mio lavoro e la mia vita sono molto uniti però sulle spese personali si potrebbe diciamo parlare di tutta quanta la roba legata lo status quindi appunto un bell'orologio dei bei vestiti tutta quella roba di status per esempio non spendo però tu ce l'hai un feticcio di queste cose qua che sono le case spiegami questa cosa delle case ti piacciono le case da milioni come questa cosa da sempre a me piace disegnare e oltre a disegnare mi piace molto il disegno architettonico quindi mi sono sempre piaciuti gli architetti nella storia mi ha appassionato sempre l'architettura da sempre andavo in cerca di case progettavo la mia casa ideale per cui viaggiando un mio pallino era andare a vedere le case grandi e come quasi tutti i format del mio canale andare a vedere le case grandi è nato perché io stesso volevo andarla a vedere per cui poi le filmavo mi piace vedere le case gigantescole e le case minuscole io sono un appassionato anche di tiny homes o bianco o nero sì tanto è che io volevo anche andare a vivere in una tiny home ma in Italia è un casino allacciarla è un casino e quindi niente in realtà mi piacciono case strane case piccole case grandi di dare le case costose e carine perché vedere le case gigantesche di solito fatte molto molto bene e capisci anche cosa puoi comprare con tanti soldi ok ti ci vedi un giorno in una di quelle case da 10 milioni alcune case sono un po' inefficienti cioè per cui se io devo spendere soldi in maniera così inefficiente vuol dire che sono veramente impallato di soldi cioè devo essere miliardario per comprare una casa del genere improbabile dovessi diventarlo probabilmente mi ci vedo però adesso sono così inefficiente solo nella scelta non lo so del cibo ogni tanto però ok quindi hai comunque notato che quando ti trovi al ristorante c'è il meccanismo diverso di scelta sì sì ok questa cosa non ti fa sentire un po' come dire meno te degli inizi cioè non hai avuto un po' di ma sono ancora io ma faccio bene a comportarmi in questo modo sì sì tante volte dico cazzo se mi guardasse il Marcello che del 2017 sarebbe molto sorpreso però faccio bene sorpreso o quasi deluso no sorpreso ok allora va bene beh calcola io scroccavo tutto cioè il mio valore era scroccare tutto c'era proprio una roba fondante della mia vita e adesso offro le cose c'era una follia Marcello del Passero non l'avrebbe mai fatto capito e invece è fondamentale ok c'è tu viaggi tantissimo hai viaggiato anche tantissimo uno dei momenti in cui è esploso il tuo canale era proprio quando c'erano i viaggi in tutti questi viaggi o in uno in particolare c'è un insegnamento che ti porti dietro magari proprio un insegnamento sul denaro su come spendere su come allora un insegnamento che mi porto dietro è la sospensione del giudizio diciamo che ho legato più che altro agli scambi culturali più che ai viaggi in sé per sé ho fatto anche tanti viaggi lunghi diciamo un mese due mesi ho fatto un mese in un sacco di posti nel mondo scopri culture che sono diverse dalle tue e ti interfacci con persone che hanno idee cioè proprio molto lontane dalle tue cioè in Cina c'era gente simpatica normale che proprio ti diceva cavolo Taiwan è cinese e tu fai cacchio capito se tu dovessi fare terra bruciata a tutte le persone che ti dicono qualcosa che non rispetta i tuoi valori non potresti viaggiare in posti lontani non potresti vivere in posti lontani per cui adesso spesso sospendo il giudizio anche nei miei video faccio questa roba qua cioè io mostro raramente giudico ok e anche io cerco di guardare e a meno che non sia necessario raramente giudico e questo per me è una cosa fondamentale perché ti aiuta ad evolvere questo è insegnamento numero uno dei viaggi ok e a proposito di viaggi sei stato in tanti posti e durante l'anno stai in tanti posti una domanda che tanti colleghi imprenditori potrebbero farti o che tanti al tuo posto si farebbero da soli è ma chi me la fa fare di fare azienda in Italia quando posso andare nella Dubai di turno a pagare zero tasse guarda uno dei miei obiettivi del mio ultimo viaggio a Dubai era anche parlare con qualche ragazzo italiano che pagava zero tasse è chiaro che sarebbe figo non pagare tasse ne ho parlato anche ultimamente con degli imprenditori belle e grossi italiani che hanno società in Italia loro mi hanno semplicemente risposto noi siamo così ricchi che non ci interessa più quindi non voglio arrivare a quel punto per ora pago le tasse in Italia e sono in Italia perché il mio centro di interesse è proprio in Italia ho clienti, amici colleghi voglio stare a Milano sono chiaramente in Italia non nego che nel caso il mio business dovesse piano piano diventare meno italiacentrico domani io faccio video in inglese o cambia proprio il modello di business e io se avessi la voglia di farmi un periodo all'estero magari potrei andare a fare società da qualche altra parte del mondo o magari inizia un nuovo ramo di business che non necessita di essere in Italia però per ora sono in Italia anche perché comunque non è che faccio degli utili milionari per cui sì rosico di pagare tante tasse però non sono neanche poi così tanti però maggior ragione seguendo quella logica in teoria più utile fai più dovresti fregartene sì dipende come ragioni tipo quegli imprenditori mi dicono siamo così lì che ce ne freghiamo però più utile fai più paghi in tasse cioè Salvatore Aranzulla due milioni o tre milioni di utili netto negli ultimi tipo sei anni tipo si poteva comprare se fosse stato a Dubai un appartamento all'anno in più a Milano non l'ha fatto e se ne frega la dipende anche un po' da come ragioni sì sinceramente c'è una domanda che mi faccio ogni giorno e non ho neanche il tempo di andare a cambiare residenza in un'altra nazione adesso quindi proprio non mi pongo il problema investi? investo investo il mio piano d'accumulo inizio nel 2018 con Money Farm poi lo quindi scusa per chi non conosce misto etf sì etf mondo paesi emergenti 80% accendere il più rischioso che c'è rischioso tra la fricoletta poi nel 2019 quando ho scoperto Tinaba ho affiancato Tinaba quindi ce l'ho entrambi a un certo punto li ho apparati in modo che fossero proprio identici a livello di valore per chi non conosce che cos'è Tinaba? Tinaba è una banca non so se è una banca beh è una challenger bank come Revolut come N26 come tutte queste altre Buddy Bank è un'altra nata da insieme a Banca Profilo e tra le varie funzioni ha anche la funzione di investimenti un po' come tante altre app che offrono la funzione di investimenti ed è più o meno un robot no ed è un robot advisor anche quello quindi è più o meno un Money Farm per questo io li affianco insieme per vedere come performano le strategie sono un po' differenti ho analizzato gli etf Money Farm sono proprio etf solo geografici Tinaba ci inserisce qualcosina sui mercati leggermente diversi ok per ora però sai non è che puoi analizzare le performance su tre anni quindi non ha senso quindi comunque non sono decisioni che prendi tu cioè lasci fare allora io adesso ho le competenze di avere il mio etf di comprare il mio etf quindi ho de giro da un annetto a questa parte dove fa il mio piano d'accumulo un altro inizio tre piani d'accumulo contemporaneamente sì piccolini tutti e tre sì fai un po' più o meno si separano e poi ho anche un po' sulle cripto un pochino ok sì in realtà un po' troppo perché ho provato a comprare di basso e continuo a scendere quindi comprovo quando è che hai provato? è inizio dell'anno è tutto l'anno ho iniziato con zero cripto adesso sono una bella fetta nel mio portafoglio infatti appena ho l'opportunità però comunque me ne sfago un po' però sì ok azioni singole azioni singole e solo per gioco c'è proprio pochi soldi ho comprato un Tecnogym cosa vuol dire una? un'azione un'azione Tecnogym che sono 190 euro ma perché? no ma Tecnogym sei euro sei euro? può essere può essere no ma è solo così io non ho le compotezioni tipo un Franco Ball che tiene la collezione ma azioni singole per me non ha per me non ha senso anche perché in realtà forse sono anche troppo investito sui mercati perché potrei aver bisogno di dover spendere tanti soldi per il mio business nel futuro ok per quanto sia l'investimento più rischioso in assoluto poi è anche quello che potrebbe certo se uno può ovviamente e vista la tua comunque conoscenza di settori aziendali hai mai pensato di investire in start up fare da angel in certi casi io sono ho forse diluiranno un po' ma ad oggi ho l'1,5% di Blinkoo che è una start up a cui faccio pubblicità perché sono anche socio e ho un'altra piccola percentuale minuscola di una società che fa maschere da sci che si chiama Outoff e un altro paio di piccole partecipazioni su start up che mi avevano convinto al tempo su alcune ho proprio investito su altre ho fatto work for equity ti avrei chiesto investimenti immobiliari ma in realtà c'è un progetto che è il progetto Borghi ah il progetto Borghi di cui tu a un certo punto hai detto qualcosa poi sei un po' persa la cosa il progetto Borghi è quel progetto che io farei se non avessi tutto il resto da fare o che farò un giorno che avrò un sacco di soldi ok però mi sa che qualcuno l'avrà già fatto prima di me spero in due frasi il progetto Borghi è creare una città per i nomadi digitali in Italia quindi tipo Bali tipo Ciamai tipo tante altre che si sono nel mondo quindi che capitalizzi sul costo basso della vita ma sul benessere assoluto che c'è in Italia quindi immagina un posto di mare per esempio con una buona cucina con delle belle attività ma con i costi italiani non di Milano neanche dell'ultimo dei paesini perché ci sarà un minimo di effetto inflazionistico però comunque con dei costi ridotti immagina che valore ha per una persona che vive a Milano o che vive in Svizzera o che lavora negli Stati Uniti cioè chiaramente esattamente come la gente si riversa su Bali si potrebbe riversare su una città del genere e a parte il discorso tempo qui c'è anche un interesse economico? no no l'unico interesse sarebbe vedere una roba così realizzata ah quindi è più un progetto personale sì se lo fa qualcun altro mi ci butto dentro beh adesso lo stello bello non so se conosciamo lo stello bello lo stello bello a Milano no no una realtà bella abbastanza interessante hanno comprato la metà di un borgo in Umbria hanno creato un ostello diffuso che è più o meno una versione embrionale di quello che era la mia idea alla fine quindi qualcuno lo farà però loro penso l'abbiamo fatto ai fini di lucro sì sì beh comunque l'idea di business ok sì sì comunque l'idea di business ci si guadagna per esempio con la speculazione immobiliare certo vai là a me è venuto in mente quando c'era una casa a un euro ti ricordi no? sì sì scusa ma se mi compro tutte le case a un euro e poi faccio un botto di pubblicità scusa per chi non lo sa case a un euro è stata una non so se è non so perché parlo al passato forse è ancora un'iniziativa in alcuni comuni del sud Italia dove ci sono non solo al sud forse anche centro sì no anche in Liguria anche in Liguria non sapevo vabbè comunque sono dei comuni un po' lasciati andare case abbastanza diroccate dove c'è molta ristrutturazione da fare e il comune simbolicamente le vende a un euro nella speranza di attirare popolazione perché sono tendenzialmente delle città che si stanno depopolando quindi tu ti immagini di comprare a un euro poi sconvolgi una città le vende a 100.000 sì poi di base compri a 15.000 euro perché tu ti impegni a ristrutturare eccetera eccetera però l'idea è che vai in un posto dove le case te rilanciano te le prendi te le ristrutturi le trasformi in qualcosa di interessante e poi metti a posto tutte quelle avversità che impediscono i turisti di arrivare infrastrutture cablazione di internet eccetera eccetera comunque è un progetto titanico è difficilissimo cioè se volessi farlo per davvero significherebbe veramente infotarsi in questa roba per anni adesso abbiamo Salvini alle infrastrutture sarà molto più facile sì sì per non parlare quando mi sono messo con Mr. Rip a parlarne seriamente lui è più investito di me sul progetto lui ancora lo vuole proprio fare però gli ostacoli sono infiniti veramente infiniti beh penso ci sia tutto il discorso di amministrazioni locali che è mica da ridere una follia una follia bene Marcia è stata una chiacchierata molto interessante è stato un piacere soprattutto per quanto riguarda il discorso ruolo dell'influencer che secondo me ancora è molto in divenire e le cose che ci siamo detti oggi tra dieci anni potrebbero essere completamente ma direi anche di meno direi anche di meno probabilmente sì dai bene è stato molto bello piacere mio è stato un piacere ragazzi se avete apprezzato ovviamente fatecelo sapere qua sotto nei commenti se state guardando e ascoltando sulle piattaforme recensite fatevi tutto e niente noi vi salutiamo e alla prossima grazie a tutti